Un infarto non ha lasciato scampo ad un infermiere di 50 anni che lavorava presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Una perdita improvvisa che ha portato Biagio Tomasco, suo collega sindacalista del Nursing, a formulare una richiesta indirizzata ai commissari straordinari Ierbolino e Damato, cioè eseguire una valutazione lavoro stress correlato. Abbiamo avuto la perdita di un lavoratore, un collega, un caro amico, ma soprattutto un uomo che aveva la responsabilità di accudire la sua famiglia. Lo hanno trovato morto dopo l'ennesimo turno di lavoro, sul divano di casa. Non ha avuto nemmeno la forza e il tempo di andare a riposare nel suo letto. Tutto questo è umanamente inaccettabile, grida vendetta al cielo, ha denunciato così Biagio Tomasco. Non voglio fare polemiche sterili o pretestuose, ma elencare un fatto, sottolinea. Nell'ultimo mese nell'ospedale di Vallo della Lucania, ospedale dove lavorava il nostro amico, si sono verificati 5, dico 5, casi di infarto che purtroppo sono culminati in quest'ultimo episodio. Cosa è stato fatto e cosa si vuol fare per capire cosa sta succedendo? Organici non adeguati al volume di prestazioni che vengono erogati, continuo ricorso al lavoro straordinario, cosa espressamente vietata dalle norme vigenti, violazione delle disposizioni che prevedono le 11 ore di riposo garantito tra un turno e l'altro, mancata rielevazione dello stress da lavoro correlato su tutto il territorio aziendale come da disposizione di legge. In ragione di ciò il sindacalista Biaggio Tomasco, secondo cui dunque lo stress da lavoro avrebbe inciso sulla morte del collega, chiede un riscontro sulle valutazioni dello stress da lavoro correlato effettuato negli ultimi dieci anni, tant'è che anche la commissione consultiva permanente si era espressa in merito alle tempistiche da rispettare, imponendo l'obbligo per i datori di lavoro di ripetere la valutazione con una frequenza non inferiore ai tre anni, salvo che gli esiti delle valutazioni pregresse non indicano situazioni di disagio che inducano ad adottare provvedimenti più restrittivi e tempistiche più ravvicinate. Dunque Tomasco chiede di sapere con immediatezza se tutto ciò sia stato rispettato. Lo dovete al nostro collega che non c'è più, conclude così nella sua lettera il sindacalista Biaggio Tomasco.